Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. La festa dei lavoratori si apre subito con un dibattito cittadino riguardo della nuova ordinanza emanata nella giornata di ieri dal commissario prefettizio Giuseppe Priolo ai fini della lotta all'inquinamento. La strategia del comune, dopo un mese di blocco della circolazione, ora vira sulle targhe alterne e sarà attiva fino al 30 giugno. Inoltre, nella serata di ieri, da Palazzo di Città, hanno comunicato che in adesione alle richieste e alle proposte pervenute, previa richiesta da presentare al Comando di Polizia Municipale, sono esentati dal provvedimento i veicoli utilizzati da esercenti e dipendenti di attività commerciali. Più nel dettaglio, l'ordinanza non sarà attiva anche per veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, artigiani iscritti alla Camera del Commercio che stanno rispondendo a chiamate irreperibilità, veicoli ad uso speciale, veicoli di cittadini residenti in altre regioni italiane e cittadini stranieri muniti di copia scritta della prenotazione alberghiera, veicoli che devono presentarsi alla revisione già programmata con un documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri di revisione autorizzati. Naturalmente tutto ciò ha scatenato la protesta cittadina, infatti su Facebook le persone hanno manifestato il loro dissenso lasciandosi andare in alcuni casi anche una velata ironia sul noto social network. Tra l'altro il provvedimento non sembra essere gradito a prescindere dai cittadini, che in questo modo lo hanno commentato ai nostri microfoni. E' un'altra strontata che hanno fatto al comune, perché sono fatte delle targhe alterne, è proprio una vergogna, come hanno fatto pure i parcheggi fino alle 22 di sera, di dire a quel signore che se ne va dal comune perché sta facendo solo guai ad Avellino. Non è giusto, perché se uno c'è una macchina con un me ne pare il giorno dopo non poteva andare in giro, se mi vengono chiedendo le cose, come si compra una macchina? Non è regolare. Infatti per chi ha la problematica di avere due macchine pari o due macchine dispari deve uscire a giorni alterni. Perché se uno c'è una macchina dispara o pari, qualsiasi parte, oggi può uscire, domani no. Se vuoi lavorare con quella macchina come fa? Secondo me la targhe alterne non serve bloccare la città, perché se tu blocchi il centro e non blocchi l'altro lato della città, Il inquinamento viene sempre, arriva sempre.